Non lo sapete che voi al sud viaggiate con tutti i rimasugli delle ferrovie del nord? Scusi, scusi. Allora, la prima domanda che vi faccio è per quale motivo noi viaggiamo con le ferrovie smesse del nord? Qual è il motivo? Il motivo è molto semplice, che come diceva prima fino a Vile ci trattano da serbi, perché soltanto a dei serbi viene a Vile ci trattano da serbi, perché soltanto a dei serbi, perché soltanto a dei serbi